La nostra azienda è un'azienda metalmeccanica di circa 100 dipendenti che opera nel settore PowerGen, costruisce componenti per turbine a gas, turbine a vapore ed è accreditata a clienti come Ansaldo, GE, Alstom, Siemens. Il settore dell'aerospace per noi è estremamente nuovo, però per quanto riguarda invece il settore PowerGen è in continua crescita. Noi però crediamo nel settore aerospaziale proprio perché speriamo in un rilancio, soprattutto perché pensiamo che le nostre tecnologie e le nostre lavorazioni si prestino molto alle lavorazioni per componenti motore di avazione. Personalmente ho già lavorato con il cluster Lombardia Aerospace e ritengo che il networking sia il valore aggiunto che un cluster come l'estate aerospaziale Lombardo possa dare, quindi chiediamo la possibilità di collaborare su progetti di ricerca finanziati, far conoscerci e far conoscere la nostra azienda le nostre potenzialità.